Signore e signori buongiorno, ci troviamo al nuovo di via Olimpia di Castelfrentano allo stadio comunale, oggi per la quinta giornata di andata del campionato di seconda categoria Girone E si affronteranno le compagini della Virtus Castelfrentano e Atletico Francavilla, da questo lato c'è la fase di riscaldamento dei nostri ragazzi della Virtus Castelfrentano di mister Marco Piccirilli, là c'è la postazione Ristoro, da quest'altro lato si stanno preparando i ragazzini della scuola calcio che stanno facendo una piccola esibizione e dopo entreranno in campo con i giocatori, da quest'altro lato in fondo ci sono i giocatori dell'Atletico Francavilla che a detta di tutti è una delle squadre pretendenti a vincere questo campionato, in fondo si vede sempre il gruppo del Francavilla, Atletico Francavilla, qua ci sono i ragazzini della scuola calcio che stanno facendo una piccola esibizione, oggi è una bella giornata di sole, temperatura gradevole, ecco c'è mister Gabriele Di Felice, il nostro coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile che è anche mister dei primi calci e mister degli allievi, i ragazzini si faranno una scampettata e dopo entreranno in campo con le due squadre, adesso si accingono a fare un'esibizione, sotto gli ordini dei loro istruttori c'è anche Nicola Di Campli da questo lato, faranno una piccola esibizione, già sono state approntate delle due mini porte, faranno una piccola esibizione, prima dell'incontro di calcio previsto per le 15.30, arbitra il signor della sezione AIA di Teramo, pubblico delle grandi occasioni ancora non affrudiscono, c'è Gino D'Angelo nella postazione Ristoro, a posto, tutto ok? Bene, bocca al lupo per oggi, c'è anche il nostro Angelucci, Fabio, un mese e mezzo, e glielo sono diti l'altra settimana, tbic 3-4 giornate, tale stanno, non devo mancare più, sì sì, allora ti tocca fare a te di guardaline oggi? Ecco i ragazzi che si esibiscono e come arbitro c'è il nostro Bartolomeo Cirillo, detto Bartolo, che entrerà anche lui nello schieramento con le due squadre e si trova con la divisa d'arbitro, interamente di giallo, qua c'è il portiere, come ti chiami? Di cognome? Ah Ciccolini sei, bravo, bravo, il primo anno che stai qua? Ti piace questa scuola calcio? Sì, bravo, qua sempre ci sono i nostri ragazzi della prima squadra, si stanno riscaldando, c'è anche Bobo appoggiato a quella porta, a quella cosa? Fra meno di mezz'ora inizierà questa gara, molto importante per la classifica, noi siamo reddici da un pareggio, conseguito la settimana scorsa a Guardiagrele per 2-2, un campo ostico, degli avversari che hanno giocato un po' duro, anzi è meglio dire duro, tant'è che ci è uscito un paio di infortunati e uno squalificato, mister Marco, là in fondo il mister, state tanto i tempi del riscaldamento, signori e signori ci risentiamo fra poco, quando si entrerà in campo, buon divertimento e vinca la Virtus Castelfrentano!